Per l'undicesimo anno consecutivo Polizia di Stato in piazza per la campagna educativa Una vita da social rivolta agli studenti e gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per fornire suggerimenti utili su come evitare i rischi della rete. Operatori della Polizia Postale, un track allestito con tecnologie di ultima generazione a disposizione di studenti e insegnanti ma anche genitori per fornire strumenti utili su come fronteggiare le principali insidie del web. Dal banale antivirus per tenere chiuse porte e finestre del proprio sistema operativo a una serie di trucchi su come stanare eventuali malintenzionati, tutto può servire a un uso consapevole di internet. In piazza anche una rappresentanza di uomini e mezzi della questura, dal reparto cinofili ed artificieri alla Polizia Stradale e il reparto prevenzione crimine. Un'iniziativa molto importante perché accorcia le distanze fra generazioni, fra i giovanissimi e noi vogliamo offrire tutte le nostre conoscenze perché debba esserci una navigazione consapevole, prudente, riflessiva della rete. Non farsi prendere dalle emotività qualche scatto in avanti perché questo poi può riservare delle sorprese. Per cui secondo me la navigazione, ovviamente la rete offre delle risorse eccezionali, risorse di conoscenza, risorse anche di comunicazione, però fondamentalmente c'è da ricordarsi che la rete ha anche un altro lato della medaglia, il lato del pericolo. Su questo noi dobbiamo essere più vicini alle nostre comunità, alla nostra cittadinanza e offrire tutta una serie di consigli, di precauzioni da poter dare. Devono anche sapere che in caso di problemi voi siete sempre pronti a sostenere e intervenire. Sì, sì, assolutamente. Parliamo di questo, parliamo di parlare loro, rivolgersi immediatamente ad un adulto di riferimento che possa essere il professore a scuola, che possa essere l'istruttore nelle attività sportive, che possano essere i genitori a casa, o ancora al nostro commissariato di IPS online, la nostra pagina Facebook Una Vita da Social e ancora l'app YouPoll che garantisce anche in forma anonima di segnalare tutte quelle azioni di cui siamo spettatori, che possano essere la violenza di genere, spaccio di droga o atti di bullismo.